Benvenuti a Henry's Beauty, in questa puntata siamo qui per parlare dell'olio di cocco. Dunque, leggenda narra che io avessi anche la bottiglia grande di olio di cocco, ma purtroppo non la trovo e quindi ho soltanto il formato viaggio che sembra la provetta di urine di quando dovete fare il test della pipì. Ma vi giuro che non è pipì, insomma, non ci ho fatto pipì dentro un baratto le olio di cocco, fidatevi sulla mia parola, vi prego, ok. È importante specificare che parleremo dell'olio di cocco nella sua purezza e non di prodotti che contengono olio di cocco, questo è sempre importante specificarlo ed è un prodotto che io vi consiglio che io utilizzo perché è ricco di vitamina A, di vitamina E e di acidi grassi saturi che penetrando nella nostra pelle, nei nostri capelli, soprattutto nei capelli, aiutano a prevenire la formazione di nodi, aiutano a prevenire il crespo, ne parleremo. Vi spiegherò come fare l'olio di cocco in casa, secondo me è una procedura molto macchinosa e non ne va la pena, ma insomma se magari qualcuno ci vuole provare così per passare un pomeriggio ci sta. Dunque, prendete una noce di cocco e ci fate tre buchi sopra, da questi tre buchi girando la noce di cocco fate uscire l'acqua di cocco, conservatela perché ci sarebbero a questo punto dividete la noce di cocco a metà, prendete la polpa che sarebbe la parte bianca, la tagliate a pezzettini e la mettete all'interno di un frullatore. Dentro il frullatore ci mettete anche l'acqua di cocco che sarebbe quella che abbiamo conservato prima, frullate, 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 frullate e a questo punto setacciate quello che avete appena frullato e conservate insomma quello che ne esce dal setaccio, ossia il latte di cocco. Questo latte di cocco lo mettete in un pentolino ovviamente a fuoco basso e fate evaporare quanta più acqua possibile, quindi ci state per tipo 5 minuti, 5-10 minuti. Una volta evaporata la maggior parte dell'acqua risetacciate quello che c'è dentro il pentolino e quello che rimane è l'olio di cocco, lo mettete nel frigo per mezz'oretta, si solidificherà e quello è l'olio di cocco, poi col caldo ovviamente ritorna liquido, però non ne va la pena. Adesso la domanda che può sorgere spontanea a tutti è ma davvero io per ottenere sto barattolo di piscio devo fare tutto sto casino o no raghi? Cioè nel senso magari lo puoi fare una volta così come passa tempo, ma cioè se c'hai voglia di stare tutte le volte a fare sta trafila, cioè ti conviene letteralmente comprarlo su Amazon, costa 10 euro, sì 10 euro 500 ml, con 500 ml raghi ci state bene tipo 2 anni se non 3. La scadenza in teoria è di 6 mesi, a me è durato 2 anni. Per quanto riguarda gli utilizzi dell'olio di cocco c'è davvero l'imbarazzo della scelta ma io personalmente lo utilizzo per capelli, unghie e smagliature. Ora vi spiego come faccio sti 3 impacchi velocissimi, dunque per quanto riguarda i capelli io faccio degli impacchi di 15-30 minuti pre-shampoo nei quali inumidisco i capelli e applico l'olio di cocco da questa lunghezza qui in giù, ok? Non sulle radici perché a me personalmente li rende unti, li rende grassi, ok? Quindi alcuni lo applicano perché dicono che toglie la forfora, io per fortuna non ho la forfora quindi non l'ho mai testato per questo e appunto vedrete che non vi servirà più un decespugliatore per pettinare i capelli, insomma non ci saranno più i nodi, non ci saranno più quelle matasse di capelli, ok? Per le smagliature aiuta a prevenirle e aiuta a curare quelle che insomma già ci sono, io me ne sono accorto su una coscia perché ha avuto una crescita alle medie abbastanza veloce e mi sono venute queste smagliature qua che attualmente non ci sono più, quindi io ho utilizzato solo l'olio di cocco quindi, cioè erano piccole ed erano poche, ma c'erano e non ci sono più, c'è bisogno di risciacquarlo, cioè è vero che è un pochino un ticcio all'inizio ma poi se ne va e c'è, vabbè ok, adesso forse sarebbe anche il caso di rifarlo, c'ho delle unghie inguardabili ma quando lo faccio mi vengono delle unghie davvero divine, quindi super consigliato. Per quanto riguarda la conservazione potete conservarlo tranquillamente nel vostro bagno, cioè a meno che non sia il polo nord oppure il deserto del Sahara, insomma basta che sia una temperatura ambiente, mettiamola così, e non vi preoccupate perché d'inverno, quindi col freddo, si solidifica, ok? C'è un po' diventa solido ma non c'è problema perché basterà semplicemente far così con le mani attorno al vasetto oppure semplicemente prenderne e grattarne un pochino e far così e tornerà subito liquido, mentre invece c'è d'estate, adesso appunto col caldo, è di questa consistenza pisciolosa. Siamo arrivati al momento del test per vedere se siete dei veri oli di cocco lovers, dunque sono due domande e dovete rispondere correttamente senza sbirciare le storie precedenti, dunque la prima domanda è come si chiama quel liquido che fuoriesce dalla noce di cocco una volta che voi gli fate i tre buchi sopra e la capovolgete all'inizio del processo per fare l'olio di cocco? Rispondete, ok. Seconda domanda, cosa succede all'olio di cocco se rimane al freddo durante l'inverno? Rispondete a queste due domande e questo insomma è il nostro quiz per vedere se siete sul pezzo, spero di sì, poi controllo i vostri direct, controllo anche le risposte che date, eh? Tengo d'occhio. Ok, questa puntata è giunta al termine, io spero che vi sia piaciuta e spero di avervi fatto scoprire quest'olio che per me è fondamentale sin dalle medie. Se questa puntata vi è piaciuta io vi chiedo per piacere di rispondere a questa storia qua con olio di cocco così se vedo tante risposte sono motivato ogni mercoledì a portarvi questa bacheca qua perché comunque richiede tanto tempo per registrarla e se vedo che siete in tanti almeno mi rincuoro un po', ok? Ok.